Torniamo a casa con questi tre punti che sono fondamentali e pensiamo già alla prossima partita che è fondamentale anche quella. E' un bel impatto con questa realtà per te? Ma sicuramente, è un bel impatto, scusate, ho trovato un gruppo veramente formidabile, mi hanno accolta la grande e mi hanno permesso oggi anche in campo comunque di dare il mio contributo. Ma innanzitutto grazie, penso che è il merito veramente di tutta la squadra perché abbiamo fatto una partita penso quasi perfetta, sbagliando veramente poco sia dietro. Magari dobbiamo migliorare in alcune cose ma abbiamo tempo e siamo sulla strada giusta. Ma non è che c'è un segreto, come ho detto prima la squadra mi ha accolto veramente bene, ho trovato un gruppo fantastico. Sicuramente non era facile, era da un po' che non giocavo ma avevo voglia, avevo voglia di tornare a giocare, di tornare in Italia. Infatti ringrazio Benevento che mi ha dato questa opportunità perché comunque volevo far ricredere alcuni che si erano tra virgolette dimenticati di Caldirola. Sì sì è vero, è vero, io lo conosco da tanto, a Luca abbiamo giocato nelle nazionali insieme, insomma ci conosciamo molto bene, anche in campo abbiamo una certa sintonia. Ma il campionato di B si sa, è un campionato difficile, lungo, ci sono tante squadre che possono stare là davanti. Noi facciamo il nostro campionato, la sensazione è che siamo una squadra pronta, che possiamo veramente andare lontano, dobbiamo continuare su questa strada e migliorare le piccole lacune che magari abbiamo. Però siamo sulla strada giusta, ripeto, quindi sono contento e andiamo avanti così. Ma diciamo che potevamo chiudere la partita, è vero, con Massimo sul 2-0, potevamo stare un po' più tranquilli, però anche dal campo non ho mai avuto la sensazione che la Salernitana potesse farci male. Quindi, ripeto, portiamo a casa questi tre punti che comunque sono fondamentali, sono un campo difficile e per di più è anche un derby, quindi insomma va bene così.